Buongiorno, sono Donatella Bonaioti, vicepresidente della Simfer. Vi voglio presentare l'ultima iniziativa di formazione della Simfer su come progettare una ricerca e come utilizzare la letteratura scientifica. Si tratta di un'iniziativa che è stata suggerita dalla Sarve del 2015 e quindi proprio su richiesta di molti soci. Si terrà questo corso il 28 febbraio e il primo di marzo a Roma, in due giornate molto stipate, molto concentrate, verranno date tutte le informazioni, tutte le cose utili per progettare degli studi, per presentare le domande al comitato etico, per utilizzare la letteratura scientifica, per scrivere un articolo scientifico. Mi sento di suggerire la vostra iscrizione numerosa perché noi ospedalieri, soprattutto noi ospedalieri, non abbiamo tanti strumenti per procedere in modo autonomo e con facilità in questo campo. Invece noi la Simfer soprattutto ha bisogno di approfondire molto clinicamente e fare ricerche soprattutto in ambiente clinico. Il costo è molto contenuto proprio per scelta della Simfer per incrementare e per incoraggiare la partecipazione solo di 70 euro per due giornate. Spero di vedervi numerosi e arrivederci al 28 febbraio.